Allora ho fatto un po' di ordine su questa scrivania incasinata perché volevo farvi vedere una cosa. L'altro giorno quando vi dicevo che sono un po' una nerd che si è comprata tutti i libri di World of Warcraft non stavo mentendo, cioè non mi sono comprata i romanzi. In realtà uno l'ho comprato, che è questo qua che racconta della storia di Arthas ma l'avevo comprato in inglese perché ho detto vabbè almeno studio un po' l'inglese perché in realtà insomma leggendo poco io ho detto non è che posso, l'unica cosa che leggo è leggermi un romanzo di World of Warcraft perché diciamo che ho trovato questa scusa di comprarla in inglese ho detto così però in realtà non l'ho mai finito. Però fai dei bei rumorini ASMR. Comunque il problema, il problema di World of Warcraft è, e di capirci qualcosa nella storia, è innanzitutto che questi sono 30 anni che scrivono storie di World of Warcraft perché se si parla dei primi giochi che sono usciti prima del Morbg era il 94 mi sembra, per cui sono passati 30 anni. In più da quando è uscito World of Warcraft hanno avuto la bella trovata fra diciamo un'espansione e l'altra di rilasciare un sacco di romanzi, fumetti, novelle, per cui è veramente difficile star dietro a tutto, capire tutto, chi sono i vari personaggi, cosa gli è successo. Quindi diciamo che è sempre stato abbastanza complicato per chi si appassionava questa storia riuscire a ricostruire il tutto perché un po' è nei giochi usciti prima del Morbg, un po' è nel gioco stesso, un po' è nei romanzi, un po' è nei fumetti, per cui quando sono usciti questi volumi qua che si chiamano World of Warcraft, la storia, me li sono comprati subito perché praticamente erano un compendio di tutto quello che era successo, me li sono comprati a differenza dei romanzi che, insomma, un po' mi vergogno, anche perché mi piacciono proprio come libri, cioè sono pieni di illustrazioni bellissime, secondo me sono stupendi questi libri qua, cioè mi piacciono proprio da tenere come oggetti. E praticamente in questi libri ti raccontano tutta la storia, tutta la storia ma partendo addirittura dalla cosmologia, la mitologia e diciamo che un po' di anni fa ne avevano rilasciati tre, i primi tre volumi, volume 1, volume 2, volume 3, poi si erano fermati per un po' di anni ed erano arrivati, allora diciamo che il primo parla soprattutto diciamo di quando, perché non so se lo sapete, il mondo di Azeroth una volta era un continente unico, poi c'è stato un evento che l'ha fatto dividere e diciamo che arrivava e parlava proprio della storia antica, diciamo di Azeroth, delle lotte fra gli elementali e l'inizio appunto dell'universo, dell'universo del mondo dopo che si è diviso. Poi nel secondo libro parla, infatti c'è un orcone, parlavano Uldan, parlavano più che altro di Draenor che è il pianeta da cui arrivano gli orchi, perché la storia fondamentale all'inizio, il primo gioco che era Warcraft, che era umani verso orchi, orchi verso umani cioè si intitolava proprio così, era praticamente la storia basica di questo pianeta abitato dagli umani elfi che veniva invaso da questi orchi attraverso un portale eccetera eccetera poi da lì si è sviluppato tutto e in questo secondo libro parlano soprattutto appunto di Draenor, di come vivevano gli orchi prima di invadere, perché hanno invaso, cosa gli è successo eccetera eccetera e poi le prime guerre diciamo che ci sono state nel mondo diciamo degli umani che cosa è successo. Nel terzo libro invece che era questo parlavano, vediamo un po' se mi ricordo esattamente, sì parlavano più che altro di tutta la storia di Arthas, il trono di ghiaccio che è quel romanzo che vi ho fatto vedere prima, insomma diciamo che erano un compendio di tutto quello che era successo, secondo me sono molto belli e se uno è appassionato o vuole conoscere di più questi libri diciamo ti fanno abbastanza il riassunto ma sono anche belli come oggetti secondo me e poi diciamo che si erano fermati e ho scoperto che è uscito il quarto volume da poco per cui me lo sono ordinato, sfortunatamente mentre questi i primi tre sono in italiano, quello lì non sono riuscita a trovarlo in italiano, è solo in inglese però vabbè mi arrangerò e volevo vederlo con voi perché magari qualcuno di voi è interessato a comprarlo anche perché sono curiosa di capire a che punto della storia si ferma, cioè se questo punto è un fatto il riassunto di un po' tutto o no, tra l'altro ho anche altri libri che sono di questi raccontando la storia, ho tutta una serie invece di libri che si chiamano Esplorare Azeroth che sono un po' più, sono divisi per i continenti, le isole, l'isole dei draghi che sono un po' più, riguardano il gioco vero e proprio e praticamente ti parlano delle varie zone che ci sono nel gioco, la storia collegata, cosa è successo, molto molto belli anche quelli, magari un giorno vi farò vedere anche quelli. Ma oggi quello che voglio vedere con voi è scartare e sfogliare un po' il quarto volume che mi è arrivato oggi per vedere di cosa parla. ed eccolo qua, ancora incelofanato, purtroppo come ho detto in inglese, io non so neanche più, devo dire che ultimamente anche quelli che vi dicevo prima basati sulla geografia non riesco più a trovarli in italiano, non so se non li traducono più perché probabilmente c'era poco interesse... allora, vediamo un po'... allora cos'è questo... cronaca e volume 4, stunning artwork e micchi antichi abbondano nel quarto capitolo della linea best seller World of Warcraft Chronicles ok... e teniamocelo questo fogliettino che mi piace... lo mettiamo in fondo... ok... e poi sono fatti molto bene devo dire... non so se si riesce a vedere... c'è anche una parte lucida... mi piacciono... mi piacciono proprio al di là che va bene della storia di... di World of Warcraft che mi piace... mi piacciono proprio anche come oggetti da tenere... allora, vediamo un po'... da dove iniziano e da dove... e dove arrivano... capitolo 1, Mist of Pandaria... ok... il capitolo 2, World of Draenor... il 3, Legion... il 4, Battle for Azeroth... il 5, Shadowland... tutte le storie... per esempio di queste quattro espansioni qua... c'è quello che raccontano qua dentro... c'è sicuramente... la storia la potete vivere... giocando... e in più ci sono fra un'espansione e l'altra dei romanzi... molto belle anche le pagine... la carta... mi piace molto... c'è molto da leggere comunque... non sono solo... diciamo... libretti di disegni... questa è l'espansione dopo... ok... che è World of Draenor... belli... ve lo faccio vedere... magari... qualcuno si fa un'idea... e se li compra... la città di Shatra... l'origine degli Arrakoa... questa è la battaglia... ok... vediamo se spiegano... perché ad esempio... uno dei grossi difetti tra Pandaria e... Warlord of Draenor... era che... avevano fatto tutto un... un romanzo... che non so in quanti hanno letto... per cui la gente non aveva mica capito... perché ci si era trovati lì... uh... Legion... la mia espansione preferita... beeeella... beeeella... eh sì... praticamente ti fanno il riassunto di tutto quello che è successo... per cui se uno si è perso... tutte le espansioni precedenti... diciamo che non è che me li leggo... non me li sono mai lette... non mi sono mai messa lì a leggere... a leggerli tutti... però ogni tanto... quando magari... mi capita un personaggio... fanno riferimento a qualcosa che... che belle queste illustrazioni... bellissimo... a qualcosa che... che non conosco... diciamo che sono andata spesso a... a consultarli... battaglia di Azeroth... ok... perché fra l'altro poi... queste espansioni erano anche magari un po' difficile da capire... la storia... perché ad esempio... in Battle for Azeroth c'erano... come vi ho già detto... no... ci sono le due... ci sono le due fazioni... in Lorda Alleanza... in alcune espansioni... lavorano assieme... per cui... diciamo che la storia è condivisa... in Battle for Azeroth... per esempio... era una guerra... fra loro due... ehm... per cui... se tu avevi solo un personaggio dell'Orda... capivi metà della storia... perché... l'altra metà era raccontata... se avevi un personaggio dell'Alleanza... per cui... può anche essere utile... leggersi queste cose... per... per capire cosa è successo... ok... o magari ti capita spesso... quando uno dice... va bene... allora io devo farmi un personaggio nuovo... voglio capire cosa è successo in questa espansione... vado a giocare... perché tu puoi decidere... diciamo... dopo che hai fatto il primo personaggio... che loro te lo mandano per forza... nell'ultima espansione che hanno fatto... ehm... se ne fai altri... puoi decidere in quale espansione andare... uno dice... vabbè... mi interessa la storia... che ne so... del Re dei Lich... per cui vado a farmi tutta l'espansione... di... di... a Nordania... a quei posti lì... però capita spesso... che in realtà... tu arrivi al livello massimo... ehm... diciamo... prima di iniziare poi l'espansione... nuovissima... che... non hai finito la storia... per cui magari... non capisci come finisce la storia... per cui questi... questi libretti... diciamo... possono essere utili... per fare un riassunto... perché poi ci sono anche un sacco di filmati... proprio nel gioco... quando finisci di combattere contro... il mostrone cattivo... viene fuori il filmato... che ti spiega come va avanti la storia... per cui... insomma... eh... ci sono un bel po' di cose da sapere... peccato che non sia in italiano davvero... e questo è Shadowland... che è stata l'espansione... penso... più odiata... perché... sono curioso di vedere come l'hanno... impostata... perché secondo me si sono... si sono un po' pentiti... delle cavolate che hanno fatto... in questa espansione... vedere... vedere... ok... parlano di tutti i personaggi principali... e ci siamo... e delle varie zone... e va bene... io voglio vedere se parlano del cattivone... perché praticamente... questa espansione è stata odiata... perché hanno introdotto questo cattivone... ehm... che praticamente tutto quello che avevano raccontato... nei vent'anni precedenti... tutte le storie precedenti... ehm... hanno tirato fuori sta cosa... che... in realtà... cioè tutti i personaggi che tu conoscevi... sia buoni che cattivi... in realtà... era questo cattivone qua... che aveva... mh... organizzato tutto... e... alla gente non... non è piaciuta per niente... questa cosa... ma sono furiosa... di vedere se ne parlano di lui... perché finora... siamo... ehm... penso... alla fine dell'espansione... stanno parlando di tutto quello che è successo... nelle varie zone... ok... ma... ehm... di lui in realtà ne parlano pochissimo... ehm... mi sembra che ne parlino proprio poco... non hanno fatto neanche che un capitolo dedicato a lui... non l'ho visto... per cui... diciamo che si sono un po' pentiti... fortunatamente... vabbè... io non sono neanche una... ripeto... a me piace la storia... ma non sono neanche una che... cioè... io capisco... mi racconti... vabbè... una storia l'hai sbagliata... e poi... diciamo che... non lo nomini più questo tipo qua... facciamo finta che non sia mai esistito... e mi va bene così... non sono una di quelle... che... che si arrabbia troppo... ecco... diciamo che... capisco che si possano fare degli errori... e... l'importante... è porvi rimedio... allora... questo è il libro... e... niente... penso che... mi vedrete ancora giocare ogni tanto qualche live... di World of Warcraft... perché... a me piace proprio... tanto... tanto... vi ringrazio molto per avermi seguita... e ci vediamo presto... ciao a tutti... grazie...